Buongiorno ragazzi! Ciao! Allora, come state? Bene, siete pronti? Sì! Ah, bene, allora, però, vediamo se siete davvero pronti, eh? Facciamo una prova sul vostro primo canto con la guardia quando è pronta, ok? Grazie! Grazie! Grazie a tutti. Siete bravissimi! Siete bravissimi! A noi, ragazzi, ragazzi, mi raccomando, mi raccomando, visto che siete così bravi, vi chiedo solo una cosa. Quando comincio la musica e soprattutto sui dialoghi, solo parlati, in silenzio per sentire bene tutto quello che dicono in pari, ok? Non sono sicura che sarete bravissimi! Allora, siamo pronti, ragione? Allora, guardate un pochettino da raggiù! Buongiorno, ragazzi! Buongiorno! 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 Ma ora, vediamo! Vediamo che mi conosce! Mi sono io! E' un pochettino da raggiù! Vai! E' un pochettino da raggiù! Vai, prego! Chi vuole fare il poteano del circo? E' una venta! Chi vuole fare il poteano? Chi vuole? Chi vuole? Chi vuole? Chi vuole? Grazie a tutti. Amore e libertà da anche di invidio e gelosia, apritene negli occhi e scambate la vostra voce perché... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.